Buongiorno ragazzi voi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Oggi andrò a vedere Salernitana Napoli ragazzi Sono riuscito all'ultimo secondo, al last minute A prendermi un biglietto per questo derby di fuoco ragazzi E vi porto con me la rete Comunque ragazzi il Napoli in questo momento è messo Prima in classifica con 28 punti E la Salernitana è messa 19esima con 7 punti Comunque io penso che finisca 1-1 Penso che segni Djuric e insignia ragazzi Un derby non è mai la partita facile per entrambi le squadre Secondo me oggi la Salernitana potrà portare un punto importante a casa Non ci saranno tifosi del Napoli perché li hanno aiutati a venire a Salerno Quindi ovviamente sarà tutto Salernitana Sarà bellissimo a vedere cosa può succedere Andiamo allo strato ragazzi e vi genererò dopo E' arrivato allo stadio Ecco il Napoli E qua sta la Salernitana Mamma mia che atmosfera ragazzi Aggi Lead E guida la Salernitana Gluta la Salernitana ragazzi Perché è atmosfera Un minuto dopo ragazzi L'ingresso del Napoli ragazzi eccolo qua Nessuno lo apprezza ragazzi Un minuto dopo ragazzi Ed ecco la Talernitana ragazzi Un minuto dopo 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 Sono partiti ragazzi Un minuto dopo Un minuto dopo L'Ozzano L'Ozzano Presa Napoli parto feroce ragazzi Chiaramente a dopo Tanti tanto L'Ozzano quasi Chiaramente a dopo Proprio la solennitana Forzato via Attacca Antelinsky Pronto Antelinsky Chiaramente a dopo ragazzi Finisce la mattina fino a mo' Che tifosi ragazzi Buongiorno a dopo Zieliński la manca Fondamenta dopo Per il Napoli ragazzi Parte Zieliński Parte Zieliński Verso Angisà Sopra Mamma che spavento ragazzi Comunque 0-0 ancora Napoli Questi due gentili ragazzi Vicinissimo al vantaggio Napoli Il Napoli ragazzi Può fare così lo sa Angolo battuto di Lorenzo Fuori Ora Mertens Mertens Fuori Battuto per la Salernitana fuori Ancora attacco Buone E finisce il primo tempo ragazzi 0-0 Fondamenta dopo Il primo tempo iniziato ragazzi Attacca la Salernitana Vibery 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 Rossa Fiorenzo Vicinissima ragazzi Vicinissima Attacca la Salernitana ancora fuori Dopo ragazzi Che capito che è successo La Salernitana ragazzi Cross Ancora La Chance La Chance Bloccato Ancora attacca Oh Ambu Un palo di mano infatti Un palo di mano netto ragazzi Comunque secondo me un gol è stato che arriva Fondamenta dopo ragazzi Fondamenta dopo ragazzi Floccato Tenuta dentro Ancora Vibery Vibery Fallo Non c'è niente A me mi sembrava fallo ragazzi Attacca ancora la Salernitana Attacca a Napoli Di Lorenzo Ross Fondamenta dopo ragazzi Angolo per la Salernitana ragazzi Angolo battuto Sili Segna il Napoli ragazzi Ha segnato il Napoli 1-0 Napoli ragazzi E non hanno presa bene i Salernitani Non so che ha segnato Ma il Napoli Passa in vantaggio Stanno celebrando Peccato che non l'ho preso Ma Adesso dovrebbero dirlo Ancora cantano C'è subito L'hanno segnato Ragazzi C'è Al GFTS Ma al GFTS Nel secondo tempo Napoli in vantaggio Ragazzi Fabian Ruiz Deviato Cosa può succedere Chi lo sa ragazzi Belez Kulipali Continuano a cantare I Salernitani Attacca il Napoli ancora Attacca Di Lorenzo Di Lorenzo Grossa Se ce la fa Politano Fuori Fuori ancora ragazzi Tornamento dopo Viperi sul pallone ragazzi Viperi Ce la fa La verde In mano a Tospina Che dine che si butta a terra Demba di esserti fatto male Bellissima tiposeria ragazzi Bellissima tiposeria Rimessa per il Napoli Di Lorenzo Anghissà E si fa male E ha munito Un momento a dopo Vedere il VAR Per qualche motivo E' successo qualcosa sicuramente Star VAR L'arbitro ragazzi Che cosa è successo Non si sa C'è stato un episodio Che cosa Non si sa Vediamo Che cosa ha visto Cosa ha visto l'arbitro Rosso 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 Richiamato al VAR Rosso per un giocatore Della Salernitana Incredibile Incredibile ragazzi Incredibile Rosso Salernitana in 10 Mamma mia ragazzi Di una venta dopo Fuori Faccio d'angolo per il Napoli Angolo per il Napoli ragazzi Può fare gol qua ragazzi In Napoli Vediamo Battuto corto Per Rui Elmas ancora Elmas Elmas tira Bloccato Non è finita Mario Rui Ripattisci la rete Ragazzi Ripattisci la rete Palo del Napoli Simi Oh Non si sa Rosso Rosso per Culi Palì Rosso per Culi Palì Ragazzi Napoli in 10 Rosso per Culi Palì Rosso per Culi Palì La rete esplode Napoli in 10 Napoli in 10 Ragazzi 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 Vediamo se segna Intanto quell'ipa lì se ne va Dagiù Punizione salernitana Vediamo se il Ribery fa qualcosa Vediamo un attimo Ribery sul pallone ragazzi Parte Ribery Di Lorenzo sulla linea Di Lorenzo Ancora Ribery Ci riesce Ribery Cross C'è veramente Quelle strumenti di millimetri ragazzi Millimetri della goal ragazzi Veramente Veramente a dopo Danna ragazzi Battuto Ospina La para La tenere per terra E' veramente a dopo ragazzi Che vuole fare Ribery sulla battuta Ribery battuta Eccolo Che è successo 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 l'ultra sinistra ragazzi andate e partite tutta la punizione ragazzi ecco arriva fuori fuori è finita ragazzi è finita è finita qui è finita qui ragazzi buona il pallone lo tiene ribery cross ma non la si tira fuori eccomi qua ragazzi finalmente sono tornato a casa bellissima partita la serenità secondo me è stata un po' sfortunata a perdere complimenti al Napoli abbiamo fatto una bella partita e niente comunque se volete altri vlog sfondate il tasto di mi piace iscrivetevi al canale e ci becchiamo nel prossimo video ragazzi con la Juventus tornerò al 1000% ragazzi farò anche là un vlog un po' speciale ragazzi comunque ci vediamo nel prossimo video lasciate un mi piace condividete iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video ragazzi ciao a sempre su Forza Juve e credite bellissima partita comunque ciao a Forza Juve sempre